relitti ma passa mi piace il mare di dicembre quando i turisti se ne sono andati ma intendiamoci mi piace con qualche riserva ho passato tre giorni in uno dei posti cosiddetti di villeggiatura in paese prima affollato da parigini così chiassosi allegri adesso sono rimasti soltanto i pescatori che passano riuniti in gruppi facendo risuonare i passi pesanti dei loro stivali da mare la gola riparata da una sciarpa un litro di mistrà in una mano e la lanterna della barca nell'altra dal nord arrivano nuvole che corrono spaventate nel cielo cupo il vento sibila grandi reti scure sono distese sulla sabbia e coperte dai rottami portati dalle maree e la spiaggia pare triste perché gli esili scarponcini delle donne non vi lasciano più i buchi profondi dei tacchi alti il mare ingrigito e gelido con frangia di schiuma sale e scende su quel greto deserto sinistro e senza confini quando si fa sera tutti i pescatori arrivano alla stessa ora fanno un lungo giro attorno alle grosse imbarcazioni tirate a secco simili a enormi pesci morti ci mettono dentro le reti una pagnotta un po di burro un bicchiere e poi spingono in acqua quel goffo corpo che trova subito un equilibrio apre le scure ali dei remi e sparisce nel buio con un lumicino acceso sulla sommità dell'albero gruppetti di donne rimaste lì fino alla partenza dell'ultimo pescatore tornano al sobborgo addormentato mentre le loro voci riempiono il cupo silenzio di quelle tetre viuzze ero anch'io sul punto di rincasare quando vedi un uomo era solo avvolto in un mantello scuro se ne stava andando in fretta osservando la vasta solitudine della spiaggia frugando l'orizzonte con lo sguardo nella ricerca di qualcuno mi vide si avvicinò mi salutò e io lo riconobbi con scomento stava di certo per dirmi qualche cosa quando apparve altra gente costoro per sentire meno freddo si appoggiavano l'un l'altro padre madre tre figlie tutti avvoltolati in cappotti in vecchi impermeabili in scialli che permettevano appena di scorgere naso e occhi il padre era arrotolato in una coperta da viaggio che gli arrivava fino alla testa il solitario viandante andò in fretta verso di loro si strinsero reciprocamente con vigore le mani e si misero a camminare in su e in giù sulla terrazza del casino che in quel periodo dell'anno era chiuso chi sono queste persone rimaste qui quando tutti sono andati via sono i relitti dell'estate ogni spiaggia i suoi il primo è una persona importante intendiamoci una persona importante da località balneare se ne sono parecchi chi di noi quando arriva in piena estate in una cittadina balneare non ha incontrato un amico qualunque un semplice conoscente e si trova lì già da tempo ed è al corrente di ogni faccia ogni nome ogni storia ogni pettegolezzo andiamo a fare insieme una passeggiatina sulla spiaggia e subito incontriamo una persona al cui passaggio tutti i villeggianti si voltano per osservarla di schiena ha un aspetto interessante i capelli lunghi ben trattenuti da un berretto marinaro gli ungono un po il colletto del camiciotto cammina velocemente dondolandosi lo sguardo fisso come se rimuginasse chissà quale profondo pensiero e si direbbe che è proprio a suo agio che sa di essere simpatico in una parola sta posando il vostro amico vi stringe il braccio arrivo il e voi domandate ingenuamente arrivo il chi il vostro amico allora si ferma di scatto e riguarda con indignazione questa è bella ma da dove vieni non conosci arrivo il violinista è proprio grossa è un artista di primo ordine uno che tutti conoscono voi tacete leggermente umiliato dopo cinque minuti passa un tizietto brutto come una scimmia grasso sporchetto con gli occhiali e l'aria da deficiente è prosper gloss il filosofo conosciuto in tutta europa qualche è bavarese o magari svizzero naturalizzato gli ha concesso esprimersi in un francese da baraccone alla fiera simile a quello che ha adoperato per scrivere un volume di incredibili scempiaggini che ha per titolo zibaldone allora voi fate finta di conoscere tutti i particolari della vita di quello scimmiotto mai visto né conosciuto prima dopo incontrate una coppia di pittori un letterato il redattore di un giornale sconosciuto e un alto burocrate di cui si dice si chiama butin ispettore generale al ministero dei lavori pubblici dirige uno dei settori più importanti quello delle serrature non comperano nemmeno una serratura per un qualunque edificio statale se l'acquisto non passa per le sue mani ecco gli uomini importanti la loro fama è dovuta soltanto alla regolarità dei loro ritorni fanno la loro apparizione alla stessa data da 12 anni e poiché ogni anno ritornano alcuni di quelli dell'anno precedente da un'estate all'altra ci si attacca a queste glorie locali che col passare del tempo sono diventate vere e proprie celebrità nei quali schiacciano sulla spiaggia scelta da loro tutte le celebrità di passaggio se è una sola specie umana capace di farli tremare gli accademici e più l'immortale è ignoto più il suo arrivo è preoccupante scoppia come un proiettile in quel posto di villeggiatura uno magari può essere preparato all'arrivo ad una persona famosa ma l'annuncio ad un personaggio accademico ignorato da tutti fa l'effetto improvviso di una straordinaria scoperta archeologica uno si chiede che cosa ha fatto chi è tutti ne parlano come d'un indovinello da risolvere e l'interesse provocato da lui va aumentando a causa del fatto che nessuno sa chi sia è quello il nemico e infatti ha subito iniziato il combattimento fra il locale personaggio importante e il personaggio importante ufficiale dopo la partenza dei bagnanti il personaggio importante rimane rimane finché rimane anche un solo gruppo familiare di villeggianti rimarrà ancora per qualche giorno un personaggio importante per quel ristretto gruppo di persone questo gli basta c'è sempre una famiglia che resta una famiglia povera venuta dalla città vicina con tre figliuole da maritare vengono ogni estate e le signorine butanè sono note nel paese quanto il personaggio importante fanno da un decennio una stagione di pesca al marito ma senza pescar niente così come i marinai fanno la loro stagione di pesca alla ringa ma stanno invecchiando la gente del posto conosce le loro età e si dispiace che siano rimaste inubili eppure hanno tanta grazia ecco perciò che dopo la partenza precipitosa della gente elegante la famiglia e il personaggio importante si ritrovano faccia a faccia restano ancora un mese o due si vedono ogni giorno senza decidersi a lasciare la spiaggia dove vivono i loro sogni nella famiglia butanè si parla del personaggio importante come se fosse victor hugo e lui cena spesso con loro dato che la pensione ormai trista e vuota non è bello non è giovane non è ricco ma lui è il signor rivoy il violinista se gli domandano come mai non sia tornato a parigi dove l'aspetterebbero tanti trionfi risponde invariabilmente la natura solitaria mi attira da morire questo posto mi piace solamente quando è vuoto un marinaio che mi aveva riconosciuto mi si avvicinò dopo avermi parlato della pesca che non andava bene delle aringhe diventate rare in quei paraggi dei pescatori di merluzzi tornati dal nord e di quanti merluzzi avevano portato mi indicò con un'occhiata ai passanti e aggiunse sapete il signor rivoy sta per sposare la più giovane delle butanè e infatti lui andava a passeggio vicino alla sua lei qualche passo dietro il gruppo della famiglia provai una stretta al cuore pensavo a quei rottami della vita a quei tristi esseri perduti a quelle nozze di fine stagione una volta sfumata l'ultima speranza a quel falso uomo importante accettato come scarto di bottega è quella povera ragazza che altrimenti ben presto sarebbe diventata in confronto a una vera donna quel che è il pesce secco in confronto al pesce fresco ogni anno a fine stagione si combinano unioni simili a questa nelle cittadine di mare deserte andate andate o fanciulle a cercare marito tra le onde così diceva il poeta scomparvero nell'oscurità sorgeva la luna dapprima tutta rossa poi man mano più pallida mentre saliva nel cielo e gettava smorti bagliori sulla schiuma delle onde duravano un attimo e si spegnevano la monotonia con cui si frangevano i flutti mi intorpidiva la mente e ma saliva un'immensa tristezza per la solitudine infinita di terra mare e cielo all'improvviso mi risvegliarono alcune voci giovanili apparvero due ragazzone smisuratamente alte che fissavano l'oceano senza muoversi i loro capelli sciolti sulla schiena volavano col vento strette come erano in due impermeabili grigi somigliavano a due pali telegrafici con la criniera capì che erano inglesi tra tutti i relitti questi sono i più sbattuti vanno ad arenarsi in un qualsiasi angolo del mondo strascicandosi in ogni città dove qualcuno è passato prima di loro ridevano col loro risoroco parlavano a voce alta con le loro voci da uomini seri e mi chiedevo quale strano piacere possano provare queste ragazze alte che si incontrano ovunque nelle spiagge deserte nel fitto dei boschi nelle città rumorose e nei grandi musei pieni di capolavori esse non fanno che contemplare quadri monumenti lunghi viali malinconici e onde schierite dalla luna senza capirne mai nulla di nulla grazie